ma come dalle 5 del mattina alle 13 no lo farei volentieri ma non posso perché a quell'ora dormo se sarebbe possibile dalle 14 in poi certo molto flessibile io sono flessibile non lungo ma siluoso a domani dicevi proprio domani si può aspettare un attimo magari ci pensiamo un attimo mese prossimo vedi quando divento chef voglio diventa cattivo a trattarli male come quelli dalla televisione sta sentiti a sing hai pulito quel cazzo dei padelle